Stampa di Mr. Fosti, prima il direcco San Giuliano, va in Fiorenzo. Sì, mister, lei ha visto San Giuliano in Coppa Italia, il terzo gol che ha siglato contro Pergolettese. Pergolettese è lunga in campo, stava cercando di recuperare però un gol segnato a memoria, tutti i tocchi di prima, sei giocatori coinvolto. Sì, ma sappiamo chi andiamo ad incontrare, sappiamo che la squadra è una squadra molto valida, che sta dimostrando che vuole essere protagonista in questo campionato. Quindi Daneo Promeossa sta facendo molto bene, gioca un calcio anche bello da vedere, molto offensivo. Questo va dato merito a chi sta proponendo questo tipo di calcio, quindi è una squadra anche consapevole dei propri mezzi. Noi da parte nostra sappiamo chi andiamo ad incontrare, quindi sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo, ripeto, dobbiamo crescere, dobbiamo capire che comunque vogliamo giocarci alla con tutti, dipendentemente dal nome dell'avversario. Gli avversari se lo devono guadagnare, non dobbiamo regalare niente, ma soprattutto vogliamo giocarci tutte le nostre chance per poter vincere tutte le partite che giochiamo. Quindi non voglio che i miei giocatori si accontentino di nulla, voglio che i miei giocatori puntino sempre al massimo risultato. Questa è una mentalità che sto cercando di fargli capire, anche in allenamento non si deve mai mollare. Sappiamo quello che dobbiamo fare, l'abbiamo preparata bene, con le nostre qualità, cercando quanto più possibile per mettere in difficoltà l'avversario domani per vederne a capo in una maniera migliore. Marcello, Vinalo. Appunto, quali sono secondo te le qualità maggiori e migliori di questo lecco in questo momento con cui affrontare San Giuliano difficile? Le qualità del mio lecco ancora le dobbiamo capire fino in fondo. In questo momento inizialmente abbiamo lavorato sulla testa, sulla fisicità, sull'organizzazione e la compattezza. Stiamo lavorando ancora su questo e sto cercando di far capire a questa squadra che più siamo compatti, uniti e più diamo fastidio agli altri. Non gli chiedo i 7-8 passaggi di fila e la palla all'incrocio in questo momento. Mi sto chiedendo di essere pratici, compatti, sapere quali sono i nostri limiti e pian piano poi arriveremo anche magari, mi auguro a essere anche belli, se così possibile. Ma questo campionato, ripeto, questo campionato è pratico, non è bello. Questo campionato è pratico. Se uno lo guarda sotto quell'aspetto diventa anche bello. Dopo ci sono anche squadre che sanno, ripeto, sanno esprimere un bel calcio, che sono belle da vedere, tutto quello che volete. Però è un campionato dove ammaggio il partito, perché le partite sono intensità, dove c'è seconde palle, dove c'è da lottare su ogni pallone, dove c'è da fare delle scalate, delle marcature giuste. Ecco, questo è un campionato fatto di queste cose. Poi dopo ci sono giocatori e squadre che invece hanno anche la qualità e la capacità di fare cose che magari sono di categoria superiore, però noi cercheremo di metterci una pezza voluta. Matteo, buon'accelinato. Da continuità a quello che ti ho chiesto mercoledì, come stanno gli infortunati, coloro che erano acciaccati? Ne recuperiamo qualcuno, abbiamo l'epore ancora fuori, per l'infortunio. Recuperiamo, mi sembra, a lungo, rispetto all'ultima, non so se non mi ricordo, che era fuori per l'infortunio, o domenica scorsa, vado scorso. Purlo lo stiamo prendendo, anche lui piano piano, è quasi dentro, totalmente. L'abattaro l'abbiamo, sì, l'abbiamo recuperato. Tutto sommato, mi sembra che ci siano tutti i soliti noti, Tordi, Liber, e così, però abbiamo recuperato Ilari, siamo quasi, siamo quasi al completo. L'unica roba che il San Giuliano è una delle squadre più produttive, di tutta la Serie C, c'è solo il Catanzaro, che sembra fuori Cattempo di nera, ha molte soluzioni, c'è Anastasia, c'è un buco a miracoli, e anche domenica scorsa, nel recupero, la bellezza del gol che ha fatto in Coppa Italia, anche l'ultimo gol, anche se ormai era il risparcetto della partita, mi ha colpito molto Anastasia, un giocatore, la domanda? No, niente, era una considerazione. No, no, questa considerazione, la ringrazio. Se hai studiato qualcosa di particolare, di particolare. No, studiare c'è poco da studiare, noi dobbiamo essere organizzati a fermarli, senza roba di dubbio. Dall'altra parte, mi viene da dire che noi abbiamo Eusepi, abbiamo Magneti, Inzauti. Perché abbiamo vinto, il giorno ha vinto quattro partite, ma ha perso già anche due volte. Abbiamo giudici, abbiamo, cioè, è vero quello che dice, però anche noi abbiamo dei giocatori importanti, quindi, da questo punto di vista, non è tanto in nome, quanto l'organizzazione di una squadra, che sta dimostrando di essere una bella squadra, che vuole essere, come ho detto prima, in questa categoria, quindi che sia una squadra forte, anche nei singoli, è evidente sotto gli occhi di tutti. Quindi, però noi ci siamo allenati anche per questo, per cercare di fermarli, e faremo di tutto, la nostra organizzazione deve essere in grado di cercare di fermarli, perché è normale che è inutile che facciamo video, ci prepariamo, noi ci siamo preparati al meglio, poi dopo la partita ci dirà quanto siamo bravi a mettere in pratica quello che abbiamo preparato, poi, sai, io dico sempre che il calcio, noi stiamo di qua, e prepariamo la partita, ma dall'altra parte, c'è un'altra squadra che fa le stesse cose, è contro di noi, quindi è normale, no? È il gioco delle parti, quindi va benissimo, io ho tanto rispetto di questa squadra, soprattutto perché ha 4 punti più di noi, quindi la classifica dice che è più forte di noi, in questo momento, e quando si incontra un avversario più forte, perlomeno sulla carta, tu ti devi rimboccare le maniche, perché io non andavo vinto, io non gli avrò vinta neanche se incontriamo il Milan domani, io se gioco contro il Milan, non è che gli avrò vinta prima, perché lo so, la consapevolezza vi dice che loro sono più forti, ma sarei uno sciocco a dire il contrario, quindi il Milan è più forte, però vado in campo e gioco, cerco di darmi da fare affinché possa almeno limitare i danni, e noi dobbiamo fare la stessa cosa contro qualsiasi avvizzario, avere massimo rispetto, ma non avere paura di nessuno, io non ho paura neanche, non si può giocare a calcio se si ha paura, quindi io la mia squadra voglio che gioca per vincere, anche se è l'avversario più forte, non mi interessa. Altre domande? Ecco, mister, nel discorso anno, ho detto che per politica condivisibile, societaria si fa valorizzazioni, ci devono essere tre under in campo, con l'esplosione di Neigrati e la sicurezza in porta, in questo momento parlavamo di che potrebbero essere tre under, insomma, giocò la... La partita di giovedì, intanto, quello che mi ha fatto vedere la partita di mercoledì scusate, è proprio che posso contare su degli under che fino ad oggi non avevamo visto mai, parlo di Stanga, parlo di Sangalli, è lo stesso Buso che magari ho usato, sì, a volte sì, a volte no, che fa un miottaggio, ma Rossi stesso è un esterno affidabilissimo, abbiamo Lakti, abbiamo Zuccon, abbiamo Girelli, abbiamo tanti di giovani, adesso ne dimentico anche qualcuno, perché poi abbiamo Tordini che prima o poi rientrerà, che è un altro giovane, senza escludere il fatto che poi ci saranno delle partite in cui io decida di far giocare i stucchi perché magari voglio fare minutaggio col portiere, questo non me lo vieta a nessuno, se sono nella condizione di poterlo fare, o anche per meriti, perché magari stucchi a un certo punto, che ne so, tra dieci partite o non so quando, mi dimostra che sta meglio dell'altro, perché no? Quindi, diciamo che da quel punto di vista lì, ho una vasta scelta e sono d'accordo sul fatto che le società decidevano assolutamente pensare a questa soluzione, quindi il fatto di fare minutaggio, sta a me scegliere quelli che stanno meglio di domenica in domenica, quindi, e soprattutto poi sapere che, soprattutto abbiamo dei cambi, quindi anche lì non è escluso che magari gioca uno, non è escluso che poi magari un altro entri, ma non è escluso che anche giochiamo con quattro o cinque under, se stanno meglio degli altri, cioè non è che per forza ne devo far giocare tre, ne posso far giocare anche quattro o cinque, l'importanza è che io cerco sempre di mettere in campo i 11 migliori, capito? Negli 11 migliori ci sono tre under, se ci sono cinque under fa lo stesso, cioè va bene. Galli come sta? Cioè al 90? Va bene no, cioè nel senso che all'isabato e mercoledì ha fatto 60 minuti uscite per campi, Galli sono due anni che non gioca, quindi stiamo andando avanti, il processo di Galli è questo qua, ma lo sapevamo, partita dopo partita, per cercare di portarlo ad avere una continuità, ai 90 minuti e il contatto, domani se dovesse giocare magari sappiamo che è un cambio, nel senso che se dovesse partire dall'inizio, so già che al sessantesimo magari devo cambiarlo, però lo mettiamo in conto, altrimenti continuerà a dare il proprio contributo, comunque a partita iniziata o comunque quando sarà, nel giro credo di un paio di settimane, al massimo tre, avrà tutti e 90 minuti dentro, insomma, perché ripeto, non è sei mesi che non gioca, sì, però realmente, sono praticamente fra intoppi, cose del genere, è quasi due anni che non gioca, insomma. Altre domande? Su Euseppi Pinzauti, con cui magari hai avuto modo di parlare dopo il fattaccio di mercoledì, come stanno? Poi sai, agli attaccanti, gol da lì, fattaccio è? L'attentativo di intestata, c'è stato anche fuori di reazione, ma quella roba lì, non lavorare con il mercoledì, a parte, ragazzo, c'è una società che interviene da punto di vista disciplinare, quindi per quanto mi riguarda, i cusciti dal campo, io tengo a precisare che il gruppo non si forma o non si rompe dentro il campo, durante la partita, ma il gruppo è importante che lo spogliatoio riconosca quello che è successo, perché siamo a posto che non ci vedo nulla, cioè quella cosa lì non è un fattaccio, è una situazione di gioco dove sai, il ragazzo lo sa da solo, ha fatto una sciocchezza, è stato espulso, se è peccato tre giornate in Coppa Italia, a me ci sarà probabilmente una società, presumo che intervenga dal punto di vista disciplinare, non ci vedo nulla di eclatante, se succede in campionato probabilmente la sanzione sarà più grande, poi dopo che dal mio punto di vista, io gli ho detto che mi deve dare dei soldi, a me personalmente, questo è un'altra discorsa, mai e poi mai una cosa del genere, perché su Eusepi come sta? Stava a dare un lavoro però, figur che comunque non lo trova dalla prima volta. Io lo so, questo è per gli attaccanti chiaramente un disagio, noi non abbiamo un problema, un disagio è quello di non fare gol, quindi per me non è un problema, l'importante è che continuino ad andare a ricercare la prestazione, e poi arriverà il momento che magari uno dice, ah questo non fa gol, e poi invece si sbatte la palla, si sbatte la palla addosso, e la palla va dentro, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, cioè, dico sempre, guardate, i inglesi del Parma, non ha fatto gol per due anni, e volevano cacciarlo via, ha fatto gol perché gli ha sbattuto addosso, ha fatto, sono quattro partite di fila che fa gol, quindi, vai a capire, guarda, l'ho vissuto, io se vuole l'ho vissuto anche in prima persona quando giocavo, io quando sono a Tarimi, il mister mi aveva preso perché diceva che era un centrocampista che faceva gol, quando mi ha detto così non facevo manco con le mani, a un certo punto mi sono liberato dalla testa e alla quinta di ritorno non avevo fatto neanche un gol, mi sembra che siamo andati a Gualdo, c'era il Gualdo, allora in Serie C, ho fatto un gol che fa paura perché ho tirato di controbalzo, la palla ha sbattuto palo, attraverso, incrocio il palo e così, per cinque partite di fila ho fatto cinque gol di fila, a un momento diventa il capocammino della squadra, alla fine hanno fatto nove gol, per dirti no, eppure in un giro andato non ne ha fatto neanche uno, ma io non ero uno che voleva far gol, era un centrocampista, solo che lui mi rompeva le scatole perché diceva io t'ho preso perché sei un centrocampista che fa gol e non me l'hai fai neanche uno, ecco, questo per farti capire, io a Rini, forse è stato l'anno più prolifico, poi anche qui in due anni hanno fatto i nove gol qui, però sì, credo che siamo, a un certo punto l'attaccante è molto psicologico, è molto, si vive molto a sensazione, è un attimo, una palla dentro l'area, io credo che però, la cosa importante che faccia, c'è una prestazione, poi li dobbiamo anche aiutare, dal punto di vista lì, e in questo ci stiamo lavorando tanto, per cercare di essere più vicini, mercoledì per esempio, mercoledì siamo stati molto più vicini, alle punte abbiamo creato qualche opportunità in più, anche per loro, che sia Dudu che Busu hanno avuto diverse occasioni, ma anche Scapuzzi, che faceva la punta esterna, si è presentato al tuo petto col portiere, dopo 5.000 euro, dobbiamo crescere da questo punto di vista, però ripeto, tutto insieme non si può fare, però dobbiamo farlo. Grazie. 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 Grazie.